Il nostro giretto al centro si chiude ovviamente con la visita obbligata all'Apple Store dove chiederemo se ci sono già iPhone 4S sbloccati, quindi unlocked e poi si sa, noi amanti della mela non possiamo non fermarci a un Apple Store quando ci passiamo davanti quindi adesso entriamo, vedete la nuvoletta di iCloud e si entra all'Apple Store Grazie